Oggi una conferenza stampa per chiedere spiegazioni all'assessore Dino Pepe per quanto riguarda il calendario venatorio e a chiedere spiegazioni all'ATC e le associazioni venatorie. Anche quest'anno siamo stati penalizzati, siamo stati penalizzati dalla politica e dall'ufficio tecnico regionale, perché ingiustamente, e ribadiamo ingiustamente, perché hanno fatto delle istruttorie dopo sette mesi e mezza, delle nostre pratiche che giacevano nei cassetti della regione già da maggio, solo il 7 di gennaio si sono ricordati che dovevano istruire le pratiche. Le abbiamo integrate perché ci hanno chiesto un'integrazione in merito alla percentuale censita, abbiamo dimostrato di aver superato quella percentuale prevista minima nel protocollo d'inteso dell'ISPRA, dopodiché si sono inventate un'ulteriore cosa, ossia che mancavano le cartografie nelle relazioni, cose non vere perché le nostre cartografie erano legate alle relazioni già dal 28 maggio. Ancora di più se si considera quelle nostre di Teramo, quelle dell'Aquila, che avevano le stesse cartografie dell'anno scorso che hanno avuto parere favorevoli. Pertanto questo comportamento ingiustificato della regione non è più sopportabile in Abruz e quindi a questo punto abbiamo diffidato la regione e procederemo a fare tutti gli atti affinché possiamo tutelare il nostro mondo venatorio che rappresentiamo. Intanto il 20 gennaio è prossimo, i 10 giorni disponibili per la caccia alla beccaccia salteranno? Sicuramente, ormai siamo su questa strada e quindi bisogna ammettere che il gioco preordinato dai dirigenti, dagli addetti tecnici dell'ufficio caccia regionale è riuscito. Per cui con questo atteggiamento vessatorio nei confronti dei cacciatori, nei confronti di un'azione prevista dalla legge che è consentibile poter attuare, questi signori che ogni anno inventano qualcosa di nuovo pure quest'anno stanno riuscendo nel loro obiettivo.